scusate interrampo a sala per segnalarvi che si sono appena conclusi i primi tempi con la Lugini in ottima spalvero passate vantaggio con un colcio di rigare da parte di Cavani il raddoppio di Florenzi un tappin dopo che la palla ha incocciato la traversa sul colpo di testa di Totti e il terzo gol strepitoso di Pandeva a voi merde